Ciao a tutti, sono Julian. In questo video voglio mostrarvi come programmare le vostre storie Instagram. Questo è molto comodo, perché quando sei un social media manager non devi più postare storie nel tuo fine settimana, e non devi farlo durante il tuo tempo libero. Puoi semplicemente impostare l'ora e la data in cui vuoi pubblicare la tua storia, e poi dimenticartene. Ci sono un paio di software in giro, ma in questo video vogliamo usare storrito.com. Penso che sia la migliore app di pianificazione per le storie di Instagram, perché viene fornito con un editor di storie con cui è possibile utilizzare gli hashtag e tutti gli altri adesivi di Instagram, come menzioni, domande, quiz e così via. Questo è piuttosto unico. Non ho trovato nessun altro software che permetta di fare questo dal vostro PC. E un'altra parte importante è che è dotato di una vera funzione di autoposting, perché la maggior parte degli altri software vi invierà una notifica all'ora e la data in cui avete programmato la vostra storia, il che è abbastanza fastidioso, perché questo non è lo scopo di utilizzare un'applicazione di pianificazione, quando si deve fare ancora un po' di lavoro manuale. Per iniziare basta andare su storrito.com o cliccare il link qui sotto nella descrizione del video e lo puoi provare gratuitamente. Successivamente è possibile iscriversi con Google o con il tuo indirizzo email e una password. Poi si riceve una mail di conferma. Basta cliccare sul link nell'email e arriverete sulla schermata principale di storrito. Probabilmente vedrai questo pop-up qui, perché la prima cosa che devi fare è collegare il tuo account Instagram. Quindi devi un attimo confermare la tua posizione. Digitate il vostro nome utente Instagram e la vostra password e infine cliccate su connetti. Questo passaggio potrebbe richiedere qualche secondo. Una volta che è collegato vedrete il vostro account Instagram qui e si può anche fare cross post con Facebook e si vede così quando si ha una pagina di Facebook collegata qui. La prima cosa che vuoi fare è cliccare sulla tua galleria e questa è la sezione in cui puoi caricare le tue creazioni. Come potete vedere potete caricare immagini o video. E il bello è che puoi anche pubblicare video più lunghi, più lunghi di 15 secondi, perché storrito taglierà automaticamente la storia per voi in parti di 15 secondi. Per caricare qualcosa puoi cliccare sul pulsante o puoi semplicemente trascinarlo qui e l'immagine verrà caricata. Poi potete cliccare sull'immagine e si aprirà questo pop-up e ora potete direttamente pubblicare o programmare la vostra storia di Instagram. Ma come promesso la parte migliore è l'editor di storrito. Quindi clicchiamo prima su edit e dopo vi mostrerò la parte di programmazione. Quindi facciamo così. L'editor di storrito si aprirà e qui a sinistra vedrete tutti gli adesivi di Instagram come il link sticker, gli hashtag, le menzioni, luoghi e così via. Poi puoi andare avanti e cliccarci sopra, digitare quello che vuoi, scegliere il colore e aggiungere l'hashtag alla tua storia. Poi puoi modificarlo spostandolo, rendendo più piccolo o più grande o anche inclinandolo. Questo è abbastanza simile al modo in cui lo faresti sul tuo telefono cellulare, quindi non devi scendere compromessi rispetto alla tua app mobile. E naturalmente l'adesivo del link è piuttosto importante per la maggior parte di voi. Quando avete un sito web o un negozio online potete semplicemente digitare il vostro link, il nome del link e poi aggiungerlo. Ora l'adesivo viene aggiunto alla vostra storia. Puoi provare tu stesso tutti gli altri adesivi. L'editor di sorrito risulta molto sofisticato. Qui puoi anche aggiungere testi, puoi aggiungere immagini, forme, gif ed emoji ed è piuttosto facile da usare. Una volta che hai finito di creare la tua storia di Instagram puoi cliccare su salva e la tua storia sarà salvata nella tua galleria con l'hashtag e l'adesivo del link su di essa. Ora arriva la parte in cui puoi pubblicare o programmare la tua storia. Clicca semplicemente sulla tua storia. Poi puoi cliccare su pubblico e programma e la pagina di pianificazione si aprirà qui. La prima cosa che puoi fare è selezionare il tuo account Instagram. Il bello è che puoi anche pubblicare la tua storia sulla pagina Facebook. Io userò questa qui. Ora la cosa migliore, la parte di programmazione. Potete pubblicare direttamente la storia cliccando semplicemente su pubblica ora e vedrete qui un cerchio di progresso dove la storia viene postata sul vostro account Instagram e sul vostro account Facebook con l'ora e la data. Tuttavia lo scopo di questo video è quello di programmare la tua storia. Quindi puoi cliccare sul calendario, poi puoi andare avanti e scegliere l'orario che vuoi. Per esempio domenica prossima voglio avere questa storia pubblicata diciamo alle 11 del mattino. Questo qui è il tuo fuso orario e poi puoi cliccare su programma la tua storia. E ora come vedi la tua storia è stata programmata con successo come indicato qui dall'orologio. Come potete vedere è stato piuttosto facile e veloce. Ora l'altra storia è già stata postata. Controlliamo velocemente come appare su Instagram. Quindi vado su Instagram e questo è come la storia è stata postata sul mio account Instagram. E la parte migliore è che è stata postata anche su Facebook. Questo è molto figo. Puoi programmare le tue storie molto prima del tempo. Non importa per l'applicazione, per l'anno prossimo, per quest'anno, quando vuoi. Poi puoi anche gestire più account Instagram. Ecco perché penso che Sorrito.com sia il miglior software di pianificazione per le storie di Instagram. Ho anche sentito che aggiungeranno molto presto gli Instagram Reels. Quindi restate sintonizzati anche per quello. E per ora andate su storrito.com, provatelo e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E per favore condividetelo con altri social media manager.